Ciao, sono Ezio del Centro Marini Pro Worker. Oggi presentiamo la nuova serratura elettrica 52N ISEO. Andiamo e te la presento. Benvenuti nell'area tecnica del Centro Marini Pro Worker. Oggi parliamo della serratura elettrica serie 5 della ISEO. Una serratura studiata e pensata sia per nuove installazioni, ma anche in particolar modo per le sostituzioni delle serrature già esistenti. Questa serratura è compatibile con la maggior parte delle serrature presenti sul mercato, presenta dei plus veramente importanti come l'entrata variabile da 50 ad 80, non solo, ma anche la reversibilità del senso di chiusura e apertura, cioè destra e sinistra. Inoltre, questa serratura serie 5 del ISEO può essere, in caso di esigenza, attivato il bottone di apertura dall'interno, dove non serve viene disattivato mediante un tappo. La serratura viene fornita con la contropiastra, con la contropiastra del riscontro, ma la particolarità l'abbiamo sulla chiusura, sul riscontro di chiusura. Hanno montato una slitta in nylon per evitare quel fastidioso rumore in fase di chiusura e per semplificare la chiusura stessa. È una serratura alimentata a 12 volts, perciò, logicamente, in fase di nuova installazione, necessita di un trasformatore. Per l'acquisto e maggiori informazioni, clicca sulla descrizione del video. Ricordati che il Centro Manipo Worker è al servizio del professionista. Grazie a tutti.